Benvenuti a tutti, oggi vi porto buone notizie e ciò che apriamo ufficialmente le iscrizioni per il nostro prossimo evento in Italia. Dal 1 al 6 agosto saremo sul Lago Maggiore in provincia di Varese per una settimana dedicata al Tai Chi, alla meditazione e al Qigong. Avremo sessioni teoriche e pratiche dove vedremo insieme le basi del Tai Chi e impareremo la forma Tianma 33, che è una forma dei tai chiisti Levudan che ho imparato al Tempio. Oltre a questo faremo il Qigong dei 5 Immortali, meditazione taoista e altre attività come escursioni al lago, cerchi di condivisione, di jing e un paio di sorprese che sto preparando per voi. Questo ritiro è aperto praticamente di tutti i livelli e quindi anche per i principianti e accetteremo un numero limitato di partecipanti per assicurare la migliore qualità dell'insegnamento e per stare in un'atmosfera tranquilla, comoda, familiare per praticare e imparare insieme. Come sempre, probabilmente uno degli aspetti più memorabili dei nostri ritiri sarà ovviamente il cibo e quindi anche quest'anno avremo con noi i nostri chef Alessia e Davide che ci accompagneranno con i loro deliziosi piatti. Quindi se quest'estate ti vuoi regalare un'esperienza profonda di relax, di connessione con la natura e con te stesso, ti invito a unirti a noi in questa nuova avventura. Per maggiori informazioni troverai qua sotto il link nella nostra pagina web dove troverai tutte le info riguardo ai prezzi, la logistica e il programma del ritiro. Per iscriverti mi puoi contattare personalmente su Whatsapp o via email che troverai anch'essi qua sotto nella descrizione. E ovviamente non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda o esigenza speciale che tu puoi avere per il ritiro. Intanto io ti saluto per oggi, ci vediamo presto e alla prossima.